2 McChicken Ok Ma non abbiamo la cucina Poi 9 crocchette di pollo Ma non abbiamo la cucina Patatine fritte medie Una Coca Cola media Si vede che sei esperto di McDonald's Cioè ti ricordi tutto quello che si può ordinare a memoria ma sei una vergogna Due cheeseburger grazie E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E chi sei già che è Marro E oggi siamo nel Tecun di Steph Che lui mangia sempre da McDonald's Non è vero non si dice Fa male alla salute quindi lo mangia soltanto una volta ogni due ore Una volta alla settimana anche due guarda Quindi stai zitto lo mangi tantissimo Quindi il Tecun adatto a te Sei felice? Si però se parli troppo di McDonald's mi viene fame E lo so lo so Siamo sul Tecun ufficiale di McDonald's Non so quanti di voi ce l'hanno chiesto Avevamo pure visto un video su questo Tecun da Luke un bel po' di tempo fa Quindi abbiamo deciso di portarlo anche noi Perché appunto ci piace McDonald's No piace a te A me McDonald's non piace a te Non ti piace? No Perché fa male Ma come fa non piacere? Fa male Sì ma è buonissimo Eh ma fa male Ammetti che è buono però Dipende dalle cose Non vado matta per questo tipo di cose È buonissima ma non lo voglio ammettere Io solo dolci voglio Quindi se ci saranno anche i dolci qui dentro possiamo trovare un accordo Che è un punto comune Va bene Perfetto Comunque dovrebbe essere un Tecun abbastanza lento Quindi abbiamo avviato almeno la prima produzione Per cercare di accumulare qualche soldino E mettiamo subito il primo dropper Ok dovrebbe essere di quelli belli classici Ho notato che abbiamo la stradina Per arrivare al nostro McDonald's Hai notato? Sì 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 È interessante perché probabilmente avrà il McDrive Ovvero dove si ritira la roba mentre sei in macchina Stavo supponendo che questo sarà sicuramente il parcheggio Vedi il parcheggio dove poi arriveranno le macchine Bellissimo però vedi così anche il McDrive Molto realistico Bello 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 Allora la produzione iniziale Io penso che sia abbastanza veloce ok? Dici? Quindi fai attenzione sì Secondo me sì almeno quella iniziale Riusciamo a prendere un bel po' di cose fin dall'inizio Ok Poi sì diventa un po' lento Perché uno di quei Tecun classici Penso sia un po' vecchiotto C'è un momento in un'idea di che anno sia Però lo suppongo Non lo so anche a messa di vecchiotto Però chissà Lei magari ci stupirà Però 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 c'è da dire Quindi butti giù le produzioni Non li ho buttati ok Uno Guarda Vieni 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 dall'altra parte Questo chi l'ha buttato? È stato Capitan Jeff? Toglite immediatamente Li butto giù tutti Ci hanno detto poi che c'è il colorizer E il materializer Sì praticamente puoi cambiare il materiale E il colore dei blocchi che fai Diciamo che è più per divertimento Quindi direi che prima abbiamo bene la produzione Ok Poi magari prendiamo anche queste cose un po' per divertirci noi Ok Ok se ti diverti a cambiare colori delle cose lo facciamo Non è bellino perché puoi fare un sacco di combinazioni carine Secondo me Io mi diverto così invece Diciamo qualcosa per passarci il tempo Ok Ok Allora possiamo prendere l'upgrader Finalmente eccolo qua Guarda un po' Secondo me con questo iniziamo a fare i big money Lo spero Ti propongo una sfida Dimmi Facciamo parkour tra i tre tycoon Ok Arrivo Tycoon e dropper Pronta? Allora Gli effetti Uffa Non si può fare? Aspetta aspetta Il modo c'è per forza Aspetta aspetta Ho paura che saltando da qua non salta bene Quindi io provo ad andare così Sì Sì Così ce la fai Vieni Ops Sì così ce la fai Spam Caduta Aspetta Allora lì giù non ce la faremo mai E infatti No Questo è impossibile È troppo lontano Guarda quanti soldi abbiamo già fatto Vedi? Vedi sì Te l'ho detto che all'inizio riesci comunque a fare un bel po' di soldi Quindi non è male Non è male bisogna avviare subito la produzione Mega dropper Vai 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 Mega dropper Ah così proprio cade diretto Cosa ci dai? Qualcosa di diverso? Vediamo Blocchi giganteschi Sì blocchi giganteschi Sembrano bombe nucleari Sembrano una bomba di produzione Una bomba di soldi Dato che poi ci sarà molti più soldi Esatto Ho notato però che è finito la parte dropper Sì è molto piccola È molto piccola Ok quindi questi sono i soldi massimi che possiamo fare Sarà problematico Ok possiamo comprare le prime mura Dai dai Vediamo Prima anche dei colori e del materiale per i dropper Ok vabbè piccolissime Diciamo che è una sorta di perimetro Questo è un muro Ma per chi? Per le formiche è un muro Per gli esseri umani Questo qua è un gradino Arancione Ok? Eh che ti devo dire Sarà la base L'avrebbero dovuta chiamare base del taikun Non mura Però pazienza Ci stanno già trofando Manco iniziato ci trofano già E smettila Abbi un po' di pazienza Quando mi metto di muretti bassi Mi arrabbia un sacco Te l'ho detto Che il taikun poi diventa fantastico Devi avere pazienza Vediamo Ah ok Ok È la struttura Stiamo costruendo la struttura del nostro taikun Quindi con calma Piano piano riusciamo a fare tutto Ciao Ciao Sarrampichiamo anche qui sopra Bella Per ora sì Dai i soldi li stiamo facendo Allora sei pronta? Sì Credo che adesso abbiamo la prima cosa carina Mettendo le finestre Spero proprio di sì Vetri Ok 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 Hanno un po' di problemi con i nomi Perché in effetti non corrisponde molto Però è carino Guarda che coincidenza incredibile Chiede 500 E ho 500 Proprio preciso Vai 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 Così almeno la struttura inizia a prendere forma Ok vedi Uh Il primo tet Carino Altissimo Allora I pilastri costano 7,50 C'è il terzo muro per altri 500 E qua per mille possiamo comprare l'entrata Quindi l'entrata è a lato Ok ok Io me l'aspettavo davanti Anche perché se ci pensi magari qua ci sarà il parcheggio Ci sono i parcheggi Tu parcheggi E entri direttamente Ha senso Direttamente nel tuo McDonald's Esatto Allora Ok Io direi che prima di tutto Conserviamo i soldi per l'entrata Perché praticamente il pilastro Penso che sia proprio una sorta di pilastro In cui poi ci sarà il logo del McDonald's O comunque del Mac Cafe Tutte queste cose Ok Quindi le lascerei un po' dopo Capito Tanto non sono cose essenziali E smettila di saltarmi nella testa Sto saltando sul signor Maialino in realtà Sto saltando sulla mia testa E sei molto maleducato Ok scusami E ti dicevo Quindi secondo me la cosa più importante sarà Prendere l'entrata Per iniziare a dare propria forma Allo nostro locale Eccola Ecco Sembra l'entrata di una banca Sì in effetti Vero? In effetti sì Uh per mille possiamo comprare il pavimento Il pavimento Sì sì Interessante Vedi iniziano a costare un pochettino le cose Te l'ho detto La produzione iniziale è abbastanza veloce Però poi le cose costano sempre di più Capito? Quindi Nel caso ci accampiamo per terra Dormiamo metà retta Sì però dormiamo qua Ci mettiamo qua a dormire Tranquillissimi E aspettiamo tutti i soldi Allora vai Ne abbiamo altri mille e tre Possiamo Oppure sai che cosa dovremmo fare? Vai proponi Mi è venuta un'idea geniale Ok vai Allora Ogni volta che facciamo un take Com che sappiamo che è lento Sì Dovremmo prenderci un mazzo di carte E giocare a carte qui nel mentre Monopoli Monopoli sì Vai mi piace Abbiamo anche il monopoli Quindi sarebbe vedi Un buon modo per passarci il tempo E non annoiarci Io chiacchierò con questa consolina Che appena entrata è già salutato Ciao Aspetta Saluta anche io Non essere maleducata Si salutano le persone Soprattutto se sono consolini Ok Allora si salutano solo i consolini Solo i consolini Terzo Io gli altri non li saluto mai Ti dico la verità Perché Entra dentro Perché sono sempre arrabbiata Entra dentro Corri Corri Guarda che bello a destra Bello questo Bellino vero? Mi piacciono i colori del McDonald Rosso è il mio colore preferito Quindi mi piace Vedi? Quindi ti piace anche il cibo di McDonald Vedi la consolina ci dice Che siete i miei idoli Guarda che gentili i consolini Ci fanno sempre i complimenti Di volta che entrano nelle mappe Allora Diciamo che Allora io signor maielino Ce li meritiamo tutti Forse sei tu quello Che non se li merita Ok Ascolta Se io non mi meritassi I complimenti Perché costruirei una cosa bella Come questa? Perché non la stai costruendo tu La stiamo costruendo Cos'hai fatto? Guarda Cos'è? Lo vedi? Guarda in alto Sì te l'ho detto Vedi questi pilastri Sono appunto per metterci il logo È bellissimo Posso comprare anche il primo tetto Ok Ok il tetto del locale Bello Esatto E mi dovrebbe uscire addirittura Anche il secondo Come sarà il secondo? Stiamo nella veloce Sì sì Dov'è? Non lo vedo Non capisco Aiuto Devo sciolire Non ho capito Guarda Ecco Ecco Esatto Bellino Che buono il maccaffè C'è la zona tutta con i dolci È buonissima Buonissima Allora Vieni un attimo qua Ok Vieni Abbiamo sbloccato il primo bottone Nel parcheggio Infatti guarda Parking lot Quanto costa? 1.500 Ce ne diamo? No No Quasi però Però guarda cosa ti faccio fare Guarda che cosa puoi giocare Oh mio dio Aspetta Aspetta Facciamo così Signor maialino che colori scegliamo? Ho un'idea Ok Tu devi scegliere un colore Io devo provare a indovinarlo Però scegliene uno classico Non vale scegliere cose Ma sono tutti classici Ok Ok Vai Vabbè ci sono diverse zonalità di verde in effetti Ok Allora vado e scelgo Questo Vai Ok Secondo me hai scelto il giallo Cos'è? Grigio Ma dai Ma non me l'aspetto una cosa così negativa Esatto Per quello l'ho scelto Perché ho detto Adesso dirà qualche colore super acceso Invece ne scelgo uno Super cup Si togla Allora vai Non vedi? Vai Ok Voglio mettere questo Blu Rosa È difficile Però vedi Lo so Ti ho fregato Guarda che bellini rosa però Vediamo rossi Anzi bordo Questo è rosso scuro Rosso scuro Era più bellino rosa Guardalo Guardalo rosa Perché li vuoi rosa? Sono bellini Li stavo giusto provando Con questo ci divertiamo Ti facciamo tutti strani Sei pronta? Vai Allora Allora Io lo voglio Questo Fammi vedere Così Guardali Al neon Bellissimi Sì Ma guarda quanti ce ne sono Un'altra Fammi zoomare bene Vediamo Questo Questo Ok Sembrano mattoncini Fammi vedere bianchi Che bellini Tipo neri Vedi Vedi sì Aspetta Adesso proviamo Questo arrugginito Vediamo ora che brutti Che brutto Però aspetta Arrugginito rosa Oddio ancora più brutto È bruttissimo Arrugginito è proprio brutto Allora proviamo Questo Questo non ho l'idea di come possa essere Questo è tipo ghiacciale Ghiacciale Si diventa Guarda che bello così Così sì è bellino Bellissimo Mi piace Lasciamoli così per un po' Mi piace Sì 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 Varrando di più Me lo sento Allora Ai 2005 Cosa compriamo? O di più 4000 cara Ah gli hai appena ritirati Io voglio il pavimento Vieni dentro Sì Iniziamo a comprare qualcosa all'interno Ad arredare il nostro bellissimo locale Vediamo Vediamo Guarda cosa tutto è apparso Vabbè Guarda Allora Penso che rimarremo almeno 40 ore qua per finirla Allora Perché ogni volta fa io non so che di cose Ta 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 Ok Guarda tutti i tavolini Bellini Bellini Sta iniziando a prendere un po' forma Scusi aspetta Ciao Sì sì Vedi iniziamo a sederci però non c'è nessuno che ci può servire È un peccato Non c'è nessuno che ci serve Nessuno che cucina Non c'è la cassa Non c'è nulla Non c'è nulla Vabbè noi aspetteremo qua Però almeno abbiamo le sedie Sì almeno Almeno vedi se hai mal di schiena ti puoi riposare Capito Non puoi mangiare ma ti puoi riposare Quello è l'importante Allora perché non abbiamo aperto tipo un bed and breakfast Scusa Così si poteva direttamente dormire Che senso ha? Eh Era una buona idea Era una buona idea Ma che facciamo un angolino dove si dorme Potremmo prendere questo pilastro Dici per togliercelo di mezzo Uh Bello Ne valsa la pena Ah vedi Sì vedi Eh vedi te l'avevo detto che poi il pilastro dove vanno i loghi Sì sì ha senso E vediamo invece questo perché a questo punto io sono curiosissimo Ah ok vedi È apparsa quella cosa sopra Sì dai Diciamo che avevo ragione Da forma al tetto Avere preferito qualcosa Cosa hai preso poi senza di me Ah il logo Mc Donald Guardalo Vieni lontana Almeno ora è un Mc Donald per forza Guardate Nessuno si potrà più confondere lì Guardate che cosa perfetta eh Allora è arrivato il momento di cambiare i materiali Ok Non so perché Possiamo prendere un pilastro giusto per mettere qualcosa di diverso Ok Bellino Rosso È tutto rosso Mi piace Sì Dove sei finita Sto facendo il giro per vedere se c'è qualcosa altro Ah eccolo eccolo vedi Che cosa Questo è per il Per il Mc Drive Lo stavo cercando Quanto costa Non avevo visto dove fosse 5.000 però È un po' caro È un po' caro Sì Sì Abbiamo solo 1.000 Ce lo fanno pagare bene Ci siamo accampati per la notte Guarda quanti soldi Dai 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 Andiamo a fare shopping Subito Adesso possiamo fare una bella shoppata Possiamo comprare un sacco di cose Sono felicissima Vi ho sprecati tutti No 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 Non dovevi farlo adesso Però dai c'era tutto l'interno da fare Ma guarda che bello però Eh ma sei una persona terribile Lo so Lo so Terribile Ma poi dov'è che si va a scuola Ah è questa Questa finestrella qua Ok no Non c'era prima No no la finestrella c'era Sì però non c'era tutta la stradina Esatto esatto Però Ora è una stradina in più Che giusto A chi devi ringraziare? A nessuno Guarda A parte poi da parcheggi La vedi? Si fa tutto il giro Bellissimo Dai no è carina È carina Cioè è una bella cosa Cioè per 5000 Comunque è tutta una strada Che fa il giro Della cale Bellina Bellina Bellini Questi tavoli grandi Eh beh sì giusto Ci sono anche quelli da più posti Quindi Finalmente stiamo iniziando a fare La parte della cassa Vai Guarda questi di tavolini Che sono diversi Vai prendili tutti Dai che così Sì fai effetto Ho capito Tutti i tavoli Ok i tavoli sono ufficialmente finiti Eh guarda sì Inizia a fare effetto Inizia a prendere forma Al nostro McDonald È carino Certo Allora possiamo decidere tra Vabbè il registratore di cassa Secondo me serve Eh certo Altrimenti come fai a pagare i clienti? Scusi cosa vuole? Allora prezzo zero Accetta Declina Cosa vorrebbe? Scusi io vorrei 5 panini Ma la posso usare scusami? Sì Certo Oh mio dio Mi dispiace Non abbiamo ancora La cucina Quindi non le posso usare Vorrei Vorrei Due McChicken Ok Ma non abbiamo la cucina Poi nove crocchette di pollo Ma non abbiamo la cucina Patatine fritte medie Una Coca Cola media Si vede che sei esperto di McDonald's Cioè ti ricordi tutto quello che si può ordinare a memoria Ma sei una vergogna Cioè Due cheeseburger Grazie Io non ti avrei saputo dire mezza cosa E tu ti ricordi tutte le pietanze a memoria Sei davvero una vergogna Guarda Non è vero Ti sei fatto scoprire che tu mangi McDonald's È come se non ci fosse un domani Oh guarda Guarda Non ho capito questa rampina che serve Boh E vabbè per arrivare alla finestra Perché è troppo alta Guarda Non ci arriveresti Come fai a prendere le ordinazioni È una rampa Non mi sembra Puoi prendere anche l'impiegato che serve Notato Sì infatti sto correndo a prendere i soldi Perché voglio provarlo Possiamo comprare anche il cassiere Ma voglio fare io Allora Facciamo una cosa Il cassiere ho visto che ti costa mille Risparmiamo Se tu mi dai mille euro Lo faccio io Mille euro Eh sì Mille Non è Non ti piace Non è lo stesso paragone Allora duemila Così li risparmi qui E te lo faccio io Però il cassiere Mi sembra un contratto equo No Per niente Brucia tu Signor maglielino Vediamo È impossibile Uè Salve Salve impiegato Guarda che bellina la divisa E non riesco a vederlo bene Eccolo Sì E vedi Salve impiegato Anche una faccia un po' strana Spero che abbiamo accumulato abbastanza soldi Te lo dico Lo spero anch'io Lo spero anch'io Capitan Jeff si è addormentato Tu lo vedi in piedi Maglio che è chiuso in questo momento Vabbè Papagali si addormentano in piedi Adormano in piedi Esatto Quindi è giusto così Sta dormendo Sta dormendo Poverino Che ci vuole troppo Signor maglielino Credo che abbia lo stomaco che brontola Ormai da qualche ora Sì 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 Ha detto che vorrebbe un bel panino gigante Eh ha ragione Di quelli proprio a cinque strati Lo vorrei anche io Cinque Cinque Sì perché lui mangia molto Allora lattuga Maiale Mangia se stesso No niente maiale Lattuga Lui mangia gli hamburger vegani ovviamente Capito Non può mangiare hamburger di maiale scusami Hamburger vegano Scusa non ne mangi Gli hamburger di soia mangia Perché ovviamente non può mangiare i suoi simili Ma che Cioè che cose ti saltano per la testa O altrimenti ha detto che vorrebbe un hamburger con carne di pappagallo No No guarda Tu conosci un pappagallo che si può cucinare Da mandare in cucina No Nessuno No ok È molto dispiaciuto Sì sì A lui gliene viene in mente uno Però io non vorrei Non ridere guarda Hai iniziato tu Non ridere Non ridere che hai iniziato tu Ok Mi hai provocato Iniziamo Allora Muri Uh Giganteschi Porta Ok Solo il personale Guarda display 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 Guarda che belli Dove sono? Oh bello E lì cosa ci saranno? Gli ingredienti e le cose che abbiamo? Esatto le cose che per divinare Ok E dentro? Ok Patatine fritte Ah Queste no Sono le frigitrici Buone Per le patatine Eh ma sono frigitrici Per le patatine I freezer Ah beh sì Per le bibi Ma che si sono coscietti? Polli Polletti Oh buoni Coscietti di pollo Buono buono Coscietti di signor maialino Allora non è un pollo Quindi cosa stiamo dicendo? Scusami Qua semmeno le sei cosciette Non ci provare Le riconosco Allora Ti sta per uccidere Ti sta per azzannare con i suoi denti davanti Guarda Che succede? Lo vedi? Ah sì Lo puoi scalare Ok Non è normale Allora Vieni fuori Abbiamo finito qua Manca la cassa Quindi abbiamo finito Magari compri qualcos'altro Vediamo Ta Ta Allora No abbiamo finito Qui dentro non vedo altro Vediamo qui Dai che abbiamo finito Non c'è altro Ok Non voglio cantare vittoria Non voglio cantare vittoria Ma spero che sia finito Secondo me abbiamo finito Cioè non c'è altro Fuori 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 Tu vedi altro? Io no 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 Ok finito Sicura? Sì 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 Non c'è altro dai Yeee Siamo riusciti a finire il nostro McDonald Guardate che bello ragazzi Che bello È davvero bello Da fuori È davvero bello È gigantissimo Facciamo un giro al contrario Certo per far vedere tutto quanto guarda il nostro impiegato qui un po' addormenta E vabbè Ha ragione che si addormenta Non arrivano ma Ha ragione Ha ragione È un po' noioso restare così Ad aspettare i clienti che non arrivano È certo In effetti non è solo colpa sua Però siamo riusciti a finire Bello bello Sono molto contenta Siamo riusciti a fare tutto C'è poca roba da fare come te Kune Però per quanto riguarda l'estetica Sono stati davvero bravi Sì Lo ricorda proprio totalmente Ha ragione Quindi secondo me Diciamo che è un po' Noioso sotto il punto di vista di gameplay Perché non hai armi Non hai oggetti Non hai altro da fare Sì infatti non puoi fare niente Alla fine se ti mancano i soldi per finire Devi semplicemente star ferma ad aspettare Mentre invece nei tecum più recente Hai un sacco di cose da fare Armi Poi andare a picchiare persone Che è la cosa migliore ovviamente Mentre costruisci un McDonald Poter picchiare tutti Cioè fantastico Tirando le patatine fritte magari È fantastico Comunque sono molto soddisfatta La costruzione mi piace Siamo riusciti a finirla Siamo stati bravissimi Super mega bravi Anche se alla fine Non abbiamo mangiato nulla E quindi ho ancora più fame Peccato Ho fame Peccato Peccato Non ci dà nessuno il cibo Pazienza Bene che se vi riesce così Se ci lasciateci un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!